E finiamo la puntata con un altro contributo di Marco Cereda, molto attivo in questa puntata, che ci propone BMW Motorrad e la Concept Link, che è un prototipo di motocicletta elettrica molto avvediristica, che è stata vista anche nel concorso d'eleganza Villa d'Este a Cernobbio, in provincia di Conno. Al concorso d'eleganza Villa d'Este 2017, il BMW Group presenta la sua visione della mobilità urbana a zero emissioni su due ruote, BMW Motorrad Concept Link. Ispirato a BMW Motorrad Vision Next 100, lo studio di design appina la connettività digitale alle esigenze della mobilità urbana su due ruote e percorre nuovi sentieri, muovendosi oltre le convenzioni tradizionali, sia per quanto riguarda il design, sia per la tecnologia. BMW Motorrad Concept Link rappresenta una nuova visione della mobilità urbana. Essa collega il mondo digitale con quello analogico e mette l'enfasi sul motociclista e sulle sue esigenze di mobilità. Grazie al modo in cui collega la funzionalità e la digitalizzazione, serve sia da mezzo di trasporto, sia da strumento di comunicazione. Per me BMW Motorrad Concept Link, con il suo stile senza tempo e minimalista, rappresenta più di un concept. È piuttosto un simbolo di una nuova era. Spiega Edgar Eirich, Head of Design di BMW Motorrad. Il carattere speciale del veicolo Concept diventa chiaro fin dall'inizio grazie al linguaggio di design completamente nuovo. Il corpo basso è allungato e la sella piatta, insieme alla sezione anteriore ascendente, creano una silhouette moderna e allo stesso tempo distintiva. Tutto è enfatizzato ancora di più dall'utilizzo dei colori. La finitura anteriore nella tinta Liquid Metal Titanium contrasta con il resto della carrozzeria in nero semi-opaco. I colori sono orientati diagonalmente per sottolineare il potenziale dinamico di BMW Motorrad Concept Link. La sua architettura nuova e decisamente rivolta alla funzionalità fornisce un alto livello di piacere di guida grazie all'e-drive. BMW Motorrad Concept Link è perfettamente adatta per la necessità della moderna mobilità urbana, grazie all'accelerazione veloce e alla facilità di manovra. Con la sua altezza relativamente ridotta, salirvi è facile sia lateralmente sia posteriormente. Un cambio con retromarcia assicura una facile manovrabilità, perfetta per parcheggiare in spazi molto ridotti. La sella può essere regolata in lunghezza per venire incontro ad ogni esigenza. Anche le proporzioni creano un nuovo spazio per riporre gli oggetti. Nella sezione centrale, sotto la sella, un vano bagaglio offre buone possibilità di carico. Il motociclista può accedervi velocemente e con facilità in qualsiasi momento, utilizzando uno sportello scorrevole. Con la sua nuova architettura, BMW Motorrad Concept Link unisce il piacere di guida e la funzionalità in maniera ideale. Traendo ispirazione da BMW Motorrad Vision Next 100, BMW Motorrad Concept Link interpreta la connessione tra pilota, veicolo ed ambiente per un utilizzo urbano. Essa mantiene collegato il motociclista mentre guida, allargando quindi il suo mondo mobile virtuale e offrendo nuove possibilità. Inoltre, il veicolo conosce già il programma di viaggio del motociclista e quindi anche le sue prossime destinazioni. Di conseguenza è in grado di pianificare il percorso più veloce o più interessante dal punto di vista panoramico, nonché la musica più adatta qualora lo si desiderasse. L'obiettivo è anche quello di potersi godere la guida senza distrazioni. Il classico gruppo strumenti è stato eliminato. La velocità, la navigazione e le informazioni sulla batteria vengono invece proiettate direttamente sul parabrezza nel campo visivo del motociclista. Informazioni secondarie vengono trasmesse sull'ampio pannello che si adatta perfettamente al design e che è situato sotto i manubri. Questo pannello consente un gran numero di configurazioni per corporate communications, interagire con il mondo esterno e per comunicare con altri veicoli. La superficie touchscreen sull'ampio pannello presenta e controlla molte informazioni sull'infotainment, sulla connettività e sul percorso. Programmabili a proprio piacere i pulsanti touch sul manubrio permettono al motociclista di accedere alle funzioni preferite e a quelle più usate senza dover togliere le mani dagli stessi. Così finiamo la puntata numero 18 del 2017 di Electric Motor News. Non ci resta che darvi appuntamento la settimana prossima sempre in questa rete a questo orario. Grazie e arrivederci.